Questa è una mia considerazione, Sandro non ti voglio mettere in difficoltà, però a mio avviso questo organico vale decisamente di più della posizione di classifica tua. Sì, sicuramente individualmente possiamo ambire a qualcosa di diverso, però la classifica dice questo e quindi dobbiamo accettarlo. Non sempre nel calcio vince chi è più bravo tecnicamente o ha più qualità, ma anche chi ha più determinazione e più cattiveria. Capitelli subito dopo la sconfitta di Fano ha testualmente dichiarato che bisogna cambiare registro. Ha ragione, era una partita da 0-0 per carità, il Fano non ha creato granché, però noi vogliamo vedere una squadra con un piglio diverso, con una mentalità diversa. Posizione sempre salda quella di Maurizio? Ma adesso siamo veramente concentrati su questa partita, quindi è l'ultimo dei problemi. E ripeto, tutti insieme dobbiamo arrivare a fornire una prestazione importante. Adesso c'è il confronto interno con la Monza, sabato ore 14.30. Monza che ha cambiato decisamente passo, decisamente marcia nel giorno di ritorno. Quattro vittorie, una sola sconfitta e due pareggi, una sconfitta proprio sabato scorso a Trieste. È chiaro che è una squadra completamente rifatta nel mercato di gennaio. Sì, ma in casa abbiamo battuto già la Triestina, abbiamo battuto su Tirola, quindi siamo capaci anche di affrontare squadre di questo livello. E se ci ricordiamo bene tutto questo, probabilmente affrontiamo l'impegno come sappiamo fare e come abbiamo fatto in passato. Chi la spunterà tra Campitelli e Berlusconi? Bella sfida, bella sfida. E il nostro ci tiene in modo particolare a vincerla, essendo anche a grande stima di Berlusconi. Quindi ci terrà in modo particolare a vincerla e noi faremo di tutto per portarla a casa.